Per la città di Sciacca, questa settimana che sta per finire, è stata una settimana dal forte sapore ambivalente e contraddittorio. Il popolo di questa città ha vissuto due momenti emotivi e sociali antitetici, profondamente diversi, profondamente opposti. Pensate, il 2 di febbraio tutta la città di Sciacca, con fede e con tanta gioia, si è riunita attorno alla sua Madonna, la Madonna del Soccorso. Il giorno dopo, il 3 di febbraio, questa stessa città si è disunita, si è lacerata dolorosamente con le eclatanti dimissioni del suo primo cittadino. Una città che purtroppo ancora una volta conferme di avere nel suo destino l'accentuata dimensione della conflittualità e della divisione politica. Ma cari telespettatori, oggi dopo questa incredibile e indimenticabile settimana, vogliamo formulare dei auspici, anzi di più. Vogliamo intuire due grandi speranze. La prima speranza è questa. Auspichiamo di cuore e con tantissimo affetto che la politica incominci a coltivare il sentimento di amore e di devozione nei confronti di questa città. Così come è grande l'amore e la devozione del popolo saccense nei confronti della propria madre Madonna. Poi, cari amici, la seconda di speranza. Speriamo che questa miracolosa Madonna che consola e protegge, dopo che ha liberato nel 1626 sciacca dalla peste, oggi liberi definitivamente questa città anche dalle divisioni, dai troppi protagonismi e da qualche stupido egoismo. E allora, buona fortuna a Sciacca.